Cresce la preoccupazione di una parte dei sindaci della provincia di Chieti dopo che il prefetto teatino Antonio Corona, in una riunione con i primi cittadini tenutasi a vasto giovedì scorso, ha chiesto la loro collaborazione per accogliere nuovi migranti in arrivo in Abruzzo. Una ventina di sindaci rappresentati dal sindaco di Orsonia Fabrizio Montepara, da quello di Scerni Giuseppe Pomponio e da Mimmo Budone, sindaco di Villa Alfonsina, assieme al deputato forzista Fabrizio Di Stefano, hanno annunciato la redazione di un documento da sottoporre il 25 agosto al prefetto di Chieti per esprimergli la loro preoccupazione. Secondo i sindaci manca il personale per accogliere i migranti e poi vogliono capire quanti ne arriveranno, chi gestirà l'emergenza, in che modo e con quali strutture. Non è una lotta di parte, solo del centrodestra hanno precisato, e non vuole essere un gesto che va contro il richiamo di Papa Francesco, che ha detto che respingere i migranti è un atto di guerra. È una situazione che non accettiamo, è una situazione che i sindaci giustamente mi sono venuti a manifestare per non preoccupazione, è una situazione su cui chiederemo chiarezza e su cui quest'estate noi gireremo perché ci siano meno danni e meno ripercussioni sui nostri territori. Non mi pare che sia una battaglia di parte, se è vero come è vero, che proprio ieri Tsipras in Grecia ha detto che senza l'aiuto dell'Europa questa situazione per la Grecia non è più accettabile e Tsipras non mi pare che sia della mia parte politica. Grazie.